è successo a diversi animali tutto a un tratto di cambiare paese per ragioni più o meno banali si son persi la fine del mese stanno soli sperduti e astrali come sassi nell'acqua turchese a confondersi tra i beni e i mali i rimpianti mescolati alle attese il rapporto fra testo e immagine non è un rapporto che ha toccato tangenzialmente la storia della letteratura italiana è un rapporto che in effetti è alla radice io direi quasi all'origine della relazione che la lingua italiana ha instaurato con le forme artistiche sia letterarie sia visive è indubbio che il primo testo che si consideri di una lingua romanza e cioè l'indovinello veronese rappresenti proprio l'atto di scrivere sotto forma visuale in effetti il bianco della pergamena diventa a tutti gli effetti un prato innevato un prato imbiancato dalla brina e così l'inchiostro diventa il segno nero del seme e dell'aratro allo stesso modo ricordiamo che la prima immagine che rappresenta un investimento estetico sul volgare italiano è un'immagine che è un affresco quindi l'affresco di san clemente nella basilica di san clemente in laterano a roma in cui i personaggi si esprimono come in un fumetto parlando alcuni in latino alcuni in volgare ora l'operazione che facciamo quindi quest'oggi presentando il libro di andrea e di mia è quello di andare a vedere in che relazione stanno l'immagine il testo in una tradizione come la nostra che su questo rapporto ha costruito proprio lo scheletro della sua lingua ma anche del suo modo di intendere il mondo e di leggere quello che nel mondo avviene la poesia in questo caso i testi di mia negli spaisati funzionano come il frigorifero nella poesia interno notte di bertolucci un frigorifero che viene aperto e chiuso e quindi che proietta un cono di luce nella stanza buia la poesia di bertolucci che si chiama interno notte rappresenta una sorta di camera oscura e allora noi aprendo il libro illustrato degli spaisati ci comportiamo proprio come un personaggio che di notte apre al frigorifero e in questo modo proiettando una luce sulla stanza in cui vive rappresenta il fatto di vedere nella notte quello che è possibile guardare al di là della porta chiusa della copertina del frigorifero o in questo caso di un fenomeno che invece è iper rappresentato mediaticamente e che il testo di spaisati prova a rileggere in una chiave che è eminentemente visiva ed è per questo che necessita di risemantizzare le parole le filastrocche chiedo quindi a mia di raccontarci questi spaisati testo e immagine ma anche questa porta che si spalanca per dare un cono di luce cosa vuole raccontare perché in effetti mia e andrea hanno lavorato insieme già a tre volumi tre volumi illustrati tre volumi rivolti anche a un pubblico infantile e tre volumi che hanno raccontato non solo il cono di luce nel mondo che possiamo vedere ma nel mondo in cui abitiamo e quindi questo interno notte che il frigorifero spalanca il primo libro raccontava il diluvio universale visto dal punto di vista dei pesci e quindi da una prospettiva non solo subacquea ma anche da chi è privilegiato mentre fuori c'è il diluvio e noè con gli animali sull'arca cerca di sopravvivere una classe di esseri viventi i pesci appunto è privilegiata ed è una classe che deve maturare il fatto che quello che per lei è privilegio per gli altri non lo è nel secondo libro dedicato sempre a testo e all'immagine rivolto a un pubblico infantile si raccontava quella che mia e andrea chiamano l'altra città la città ai margini della città dei privilegi la città dei senza tetto per esempio dei tossicodipendenti o la città di quelli che non sono riconosciuti nelle strutture formali della città costruita in ultimo questo libro gli spaesati le persone che non hanno paese o cercano il paese da avere le persone che sono in transito attraverso il paese mia e andrea raccontano una storia che è impossibile non ricondurre a il diluvio mediatico di cui siamo sommersi nella sponda sud del mediterraneo in questo momento storico troppo a nord è la luciola mafalda da cascais dove passava l'estate a pietroburgo si è spinta a spavalda pronta a risplendere in mille fiammate ma qui la notte è indefinita e calda ormai con bianche ore fatate si sente svanire in tanta luce salda chiede attenzione con pallide bracciate è più ampio lo spaesamento è uno spaesamento comunque esistenziale che è legato sì a questa a questa tematica e questo dramma umanitario di cui mi occupo dal punto di vista letterario da più di vent'anni ma è legato molto anche alla mia poesia che nasce proprio da questo da una incapacità di trovare da una non assuefazione diciamo l'idea di esistere quindi un'incapacità di stare e di essere e in questo caso sono appunto si tratta di animali fuori habitat che si trovano in diverse situazioni alcuni sono contentissimi approfittano di questa nuova opportunità altri invece si trovano sempre chiaramente l'ironia è sempre la chiave di quello che scrivo soprattutto per i bambini ma non solo e devo dire che la mia collaborazione se siamo al terzo libro con andrea è proprio perché ha la capacità di agganciarsi all'ironia poetica però l'ironia malinconica e farla e amplificarla e lasciando lasciando magari un po più in disparte il discorso più sociale o impegnato cioè l'impegno passa attraverso la poesia ed è rappresentato in questo modo dalle illustrazioni di andrea io io oltre io scrivo oltre che poetessa da sempre diciamo scatto delle fotografie non posso dire che sono una fotografa ma è un linguaggio che per me è importante e quindi queste due cose hanno sempre viaggiato insieme quindi la collaborazione con un illustratore quando io stessa sono abituata a passare da quello strumento dalla macchina fotografica ma comunque insomma il percorso è lo stesso ho bisogno di trovare questa affinità appunto questa affinità di sguardo proprio Hans lo stambecco di Baviera è arrivato a Ipanema a carnevale qui gli levano il dirndl in pelle vera e lo coprono di piuma artificiale zoccoletti e coda a ritmo fino a sera corna ritte nella notte tropicale fa più danni di un tornado una bufera come era il suo samba teutonico infernale con mia e con mia abbiamo collaborato a tre libri è sempre stato un piacere ed è stato attraverso anche la realizzazione delle illustrazioni dei testi di mia che ho preso coscienza di quanto il mondo della poesia sia vicino a quello dell'illustrazione dell'immagine in quanto mi sono accorto che entrambi i linguaggi sia quello dell'illustrazione che quello della poesia agiscono sulla fantasia del lettore, dell'osservatore sotto forma di suggestioni, di evocazione di conseguenza sono due linguaggi apparentemente diversi ma in realtà che funzionano in maniera molto simile è ovvio che io partendo da dei versi, da delle poesie, da un testo scritto che ha già una ricca risorsa educativa per me non dico che sia un gioco più semplice rispetto a quello di mia però effettivamente io mi trovo già con un trampolino di lancio verso l'immagine in una certa facilità in una certa facilità e come mi ho cercato di concentrare i suoi messaggi i contenuti dei suoi versi attraverso anche le parole ma ben ponderate scelte allo stesso punto ho cercato anche di distillare l'immagine attraverso una scelta a caso arragionata ponderata dei colori e delle forme quindi ho cercato di andare a non dico a impoverire l'immagine degli orpelli e di quelle che sono le caratteristiche che definiscono l'immagine nel particolare ma sicuramente ho cercato di cogliere l'essenzialità e attraverso il colore di poter offrire appunto quell'evocazione quella suggestione quindi appunto il colore la scelta di contesti che ovviamente si offrima di volta in volta di oggi sempre diversi di cercare in questo caso di offrire degli abbinamenti cromatici e delle scelte compositive che potessero diciamo avere la stessa quindi propone suggestionalità suggestionalità poi si ha una storia a sé per cui nel caso dell'altra città non abbiamo potuto sfruttare i protagonisti animali che ovviamente era stata la nostra prima intenzione ma ovviamente trattandosi diciamo di una parte della società che viene involontariamente o involontariamente ignorata molto spesso il fatto di far incarnare a questi soggetti essere rappresentati sotto forma diciamo di animali poteva rischiare di essere fraintenti invece invece nel caso degli spaesati abbiamo potuto sfruttare diciamo i personaggi animali che fa risultare in tutto molto più come dire molto più simpatico fra virgolette perché comunque l'animale ha questa forza di rendere familiare simpatica comunque situazione ovviamente è un lasciate passare il termine un cavallo di Troia il fatto di avere a che fare con degli animali che simpaticamente si mostrano osservatori in situazioni paradossali surreali erotiche umoristiche alla base di tutto c'è appunto questo giocare con soggetti che provengono da contesti diversi da quelli in cui sono inseriti per creare quel cortocircuiti che mia lo fa attraverso le parole io ho cercato di farlo attraverso l'immagine e quindi creare lo stesso diciamo cortocircuito la stessa sorpresa che le persone riescono in maniera eccezionale ecco Ribca si è incamminata un mattino col suo passo da formica gigante dal Burundi se l'è sudata un pochino ma è giunta infine nel sollevante il formicaio qui è troppo piccino non riesce a stendersi neppure un istante la testa nera spiaccicata al bacino rumina il sushi in kimono sgargiante